Era l'ottobre 2013 quando la Kimberly Clark Corporate multinazionale statunitense, leader a livello mondiale nel settore dei prodotti in carta, arrivava ad un accordo per la vendita dello stabilimento situata dall'anno alla società ICO, specializzata nella produzione del cartone ondulato, salvando così tutti i posti di lavoro e dando vita ad una nuova era per un sito produttivo di 220.000 metri quadri, capace di realizzare prodotti venduti su scala mondiale e con macchinari di altissimo livello. Tre anni dopo, e precisamente lo scorso 23 settembre, i sindacati si sono recati a Roma presso il Ministero per discutere del rischio di mobilità per 90 lavoratori. Noi volevamo fare una verifica su quello che era il progetto industriale che comunque doveva salvaguardare l'occupazione rispetto alla vendita. Purtroppo ci siamo trovati di fronte a un dato di fatto che l'azienda ci ha detto che comunque vuole aprire una procedura di mobilità per 90 persone. Riteniamo questa cosa non condivisibile. Una situazione che secondo i sindacati richiede un immediato tavolo di confronto con l'attuale proprietà e la regione per pensare a salvare attività e posti di lavoro, cercando nuovi acquirenti appartenenti al settore. Lo stabilimento infatti attualmente lavora solo su due linee produttive e poco più di una decina di lavoratori. Oggi c'è ancora una produzione di prodotto tissue, però questa produzione è stata lasciata dalla ex proprietà, la Kimberly Clark. Diciamo che la ICO, che ha nel suo core business la produzione di cartone ondulato, ha provato anche a costruire un proprio marchio commerciale, però ci dovremmo di fronte a un mercato difficilissimo. In Italia, soprattutto in Toscana, c'è il più grosso distretto europeo di questo tipo di prodotto e le grosse aziende difficilmente ti fanno entrare nel mercato se non sei un player del settore. Kimberly già ci ha detto che comunque entro il 30 le produzioni per conto proprio finiranno e in quel momento si staccherà tutto perché non ci sono prodotti che verranno fatti con marchio proprio e che saranno messi in vendita sugli scaffali della grossa distribuzione.